Buona la prima. In attesa della vittoria più importante, quella che si spera di ottenere al Collegio di Garanzia del CONI lunedì pomeriggio alle 16, la Samb ha archiviato la prima amichevole stagionale. Neanche il tempo di mettersi alle spalle il K.O. più che onorevole, 3-2 contro la Salernitana neopromossa in Serie A, che è già arrivato il momento del secondo test. Sabato alle 17, infatti, la squadra di Mister Donati si trasferirà a Sarnano per sfidare la regina Club che milita in Serie B. Un altro bel banco di prova per il Rosso-Blu dopo le ottime impressioni d'estate nel match disputato contro la Salernitana. Un amichevole, quella di mercoledì, contro i Campani, che ha convinto anche i vertici societari. Chiaramente la squadra la vedo con enormi potenzialità, cioè anche la prima volta la vedo, ma ho visto che comunque sia anche cambiando, cambiando i protagonisti in campo, i giovani d'età, ho visto 2003, 2004, 2001, si sono comportati molto bene, ripeto, con una squadra organizzata, una squadra che comunque ha vinto il campionato nazionale, è venuta in Serie A dalla Serie B, quindi credo e sono molto fiducioso, sono molto contento, ho fatto i complimenti al Ministro, al Secondo, a tutto il gruppo. Veramente oggi è stata una bella giornata, sono soddisfattissimo.